buongiorno a tutti oggi annunceremo treni dalle ore 15 e 09 alle ore 15 e 23 dalla stazione di monza il treno suburbano s8 10 8 5 8 di tre nord proveniente da milano porta garibaldi e diretto a lecco delle ore 15 e 09 e in arrivo al binario 4 ferma a arcore carnagus mate osnago cernus comerate olgiate calcobrivio a iruno calolziocorte olginate lecco mancianico attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 10 7 8 2 di tre nord proveniente da bergamo e diretto a milano porta garibaldi delle ore 15 e 11 e in arrivo al binario 5 ferma a sesto san giovanni milano greco pirelli attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno suburbano s9 24 1 3 8 di tre nord proveniente dal bairate bermezzo e diretto a saronno delle ore 15 e 12 e in arrivo al binario 1 ferma a lissone mugio daesio seregno seveso baruttana cesano maderno cesano maderno groane ceriano laghetto groane ceriano laghetto solaro saronno sud attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno suburbano s9 24 1 4 1 di tre nord proveniente da saronno e diretto al bairate per mezzo delle ore 15 e 17 e in arrivo al binario 2 ferma a sesto san giovanni milano greco pirelli milano lambrate milano forlanini milano porta romana milano romolo milano san cristoforo corsico cesano boscone trezzano sul naviglio gaggiano attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno suburbano s8 10 8 5 9 di tre nord proveniente da lecco e diretto a milano porta garibaldi delle ore 15 20 e in arrivo al binario 5 ferma a sesto san giovanni milano greco pirelli attenzione allontanarsi dalla linea gialla il treno regionale 25 5 2 2 di tre nord proveniente da milano centrale e diretto a mendrisio delle ore 15 22 e in arrivo al binario 3 invece che al binario 1 attenzione allontanarsi dalla linea gialla ferma a seregno como san giovanni chiasso attenzione allontanarsi dalla linea gialla grazie per l'ascolto e arrivederci a presto grazie per l'ascolto e 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 grazie per l'ascolto e